Sì, una comunità che esprime solidarietà e noi siamo qui per questo, con tutta la comunità napoletana, per esprimere solidarietà alla popolazione ucraina, un popolo che sta soffrendo tanto, sta soffrendo i costi della guerra, tutti i costi, in termini di vite umane, vittime civili, in termini di sofferenze economiche, sofferenze psicologiche e noi siamo qui per prima cosa esprime solidarietà alla popolazione ucraina, dove qui a Napoli c'è una delle comunità più numerose, affollate e importanti d'Italia. La questione delle sanzioni nei confronti della Russia, qual è la posizione del Movimento 5 Stelle? La posizione del Movimento 5 Stelle è stata da subito quella di aderire e anzi di promuovere anche queste misure di reazione politiche, economiche come uno strumento necessario per cercare di indurre in particolare la Russia a desistere, a cessare le ostilità, a ritirare le truppe e a riprendere la via dei negoziati, quindi se ci sarà necessità di inasprire le sanzioni, che peraltro sono già severe, l'Italia non deve ritrarsi. Presidente.